Cantiere da 3 milioni e mezzo di euro per il cimitero dei Rotoli a Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato due decreti come commissario di governo per l'emergenza cimiteri. Svuotato il deposito dell'impianto di Vergine Maria, che conteneva le salme in attesa di sepoltura, adesso si passa alla cura del decoro e ai lavori più strutturali. Rifare il muro perimetrale a nord e costruirne uno nuovo di contenimento che ospiti 500 nuovi loculi e rotoli, ma anche ulteriori servizi da affidare alla Reset, la società consortile che già opera all'interno del cimitero stesso. Gli operai dovranno occuparsi di pulizie verde, fare opere di manutenzione di ile, elettrica, idrica, impiantistiche e attività di scavo, ripristinare la camera mortuaria e fare manutenzione delle sepolture private o comunali danneggiate dal maltempo. In particolare verrà rifatto un muro in pietra che delimita il cimitero nella parte superiore, lì dove si ergono le pareti rocciose, che presenta diverse lacune a causa del distacco di diverse parti. Verrà rimessa a nuovo la strada che consente di arrivare ai campi di inumazione. L'attuale pista in terra abbattuta verrà asfaltata con tanto di aria di sosta e per l'inversione di marcia, e verranno realizzati dei sistemi di contenimento del terreno. Scartata l'ipotesi di usare l'area 58 bis per ospitare i nuovi loculi, difficilmente raggiungibile che richiederebbe tempi troppo lunghi, è stata scelta l'area a nord per costruirne 500, disposti su quattro file a gruppi di tre, prefrabbricati in cemento vibrato e addossati al nuovo muro perimetrale fondato sui micropali. Il progetto di fattibilità approvato dal commissario verrà finanziato con una parte dei 12 milioni inizialmente previsti per il cimitero a Ciaculli e poi rimodulati. Ci auguriamo sia realizzato tutto ciò in tempi brevi.